Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del Tg6. In apertura la pagina dedicata al Covid, la recente nuova ondata sta facendo allarmare i medici degli ospedali che confermano un progressivo rinalzamento dei ricoveri. Sull'argomento è intervenuto il direttore della clinica di malattie infettive del Santissima Annunziata di Chieti, Jacopo Vecchiet, il quale ha pochi dubbi sull'importanza di sottoporsi alla vaccinazione per arginare quanto prima questa pandemia e rallentare l'avanzata del virus. Stefano Recanati. Gli ospedali per ora stanno reggendo la nuova ondata del Covid-19, ma è evidente che il numero dei ricoveri nelle ultime settimane sta crescendo e questo allarma non poco i medici. Il dato è dovuto soprattutto al numero ancora elevato di non vaccinati. Ne è convinto il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, Jacopo Vecchiet, che oggi gestisce un reparto dove un mese fa vi erano 8 ricoverati, mentre ad oggi se ne contano 30. Quello che purtroppo era una variabile a me personalmente imprevista, la quota di soggetti che non hanno effettuato la vaccinazione e che in una circolazione, come stiamo vedendo, del virus, dopo averlo contratto sviluppano questa grave insufficienza respiratoria che li porta necessariamente alla ospedalizzazione. Proprio ai Novax si rivolge il professor Vecchiet, i quali non vanno criminalizzati, ma solo convinti con l'aiuto del dialogo, mentre ai già vaccinati raccomanda di effettuare quanto prima la dose booster. La realtà dei fatti è che è un vaccino che ha mostrato sui grandi numeri di essere un vaccino sicuro e di dare quella copertura utile in questa fase di ricircolazione del virus. Il sistema immunitario è un organo tra virgolette imperfetto, quindi quando stimolato dal vaccino non crea delle cellule immortali. Quindi abbiamo bisogno di fare anche la terza dose che dimostra che il vaccino funziona in virtù anche di questo richiamo ulteriore. Non deve metterci in una condizione di sfiducia nei confronti del vaccino, ma è un iter normale, come noi abbiamo imparato per tanti altri virus che necessitano di una vaccinazione che va ripetuta almeno tre volte. Intanto già a livello nazionale si è aperto il capitolo intorno alla quarta dose. Un appuntamento certo qualora il virus andrà fronteggiato come un'influenza comune, ma senza creare allarmismi soprattutto per le tre dosi già effettuate. Cioè una quarta dose che contenga anche la possibilità di difenderci in maniera più evidente contro le varianti è sicuramente una dose eventualmente utile che potrebbe non essere sbagliata. Sulla variante Omicron, presente anche in Italia, che potrebbe rimpiazzare la variante Delta e diventare dominante entro Natale, c'è cauto ottimismo anche se Vecchiet frena. Al momento, per quel poco che sappiamo, è una variante che non riesce a eludere la vaccinazione, però è chiaro che avendo aumentato la sua capacità di diffusione potrebbe mettere di nuovo un'ulteriore variabile di difficoltà diffondendosi in maniera maggiore tra la popolazione. Ed è ovvio che quanti più soggetti non vaccinati troverà, peggiore sarà l'impatto sulla popolazione generale e quindi anche sulla saturazione dei posti letto in ospedale. Ieri c'è stato un incontro tra i sindacati e gli assessori regionali Quaresimale e Damario riguardo il futuro della Sevel di Atessa. Nelle prossime settimane sarà costituito un tavolo permanente per lo sviluppo dello stabilimento e in futuro dovrebbe essere formato anche quello dedicato alle problematiche dei lavoratori. Un tavolo permanente che si occupi solo della Sevel sarà costituito nelle prossime settimane e quanto deciso nell'incontro di ieri tra l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale e quello allo sviluppo economico Daniele Damario e le principali sigle sindacali. Sarà un tavolo proiettato al futuro, ha dichiarato Quaresimale, in ragione soprattutto delle sfide del PNRR, della nuova programmazione europea 2021-2027 e della transizione ecologica. Lo stabilimento di Atessa è il sito produttivo più importante d'Abruzzo, il settore dell'automotive rappresenta il 13% del PIL regionale. La proprietà fa capo alla multinazionale olandese Stellantis, la quale presenterà il nuovo piano strategico il prossimo 1 marzo. L'obiettivo è la creazione di ricavi per 20 miliardi di euro entro il 2030, ha dichiarato l'amministratore delegato Carlos Tavares, traguardo che dovrebbe essere raggiunto tramite software. L'auto del futuro infatti avrà più programmi e meno meccanica. Il timore però è che si scelga anche la via della delocalizzazione. Stellantis ha aperto uno stabilimento gemello a quello di Atessa, a Givlice, in Polonia, rompendo il monopolio abruzzese della produzione del Ducato. Grazie alla zona economica speciale, infatti, lì fisco e costo della manodopera sono meno onerosi. Inoltre il settore sconta l'incertezza sul futuro dei motori elettrici e la crisi dei microchip, questioni che si ripercuotono in maniera allarmante sulla manodopera. Ad Atessa, di 800 lavoratori cosiddetti somministrati a tempo indeterminato, non sono stati riconfermati in 350 e il numero degli esclusi sembra destinato a crescere nei prossimi mesi. Si tratta della categoria più debole tra i lavoratori Sevel, hanno detto i sindacati. Su questo punto, Quaresimale ha annunciato ai rappresentanti dei lavoratori la costituzione di un altro tavolo regionale, in aggiunta a quello deciso ieri. Dedicato alle problematiche dei lavoratori, ha dichiarato l'assessore, che sono interessati da contratti di somministrazione lavorativa. Con la sentenza 235 del 2021, la consulta ha bocciato il bilancio 2018 della regione Abruzzo. Il senatore Luciano D'Alfonso, oggi in conferenza stampa, ha parlato dell'importanza di agire, anche perché la sentenza potrebbe fare giurisprudenza per altri enti in un prossimo futuro. Paolo Renzetti. Qui ci sono tre soggetti che hanno fatto il proprio dovere. La Corte Costituzionale a richiamare le attenzioni. La legge dello Stato a consentire un percorso di rientro ventennalizzato. La regione Abruzzo ha spiegato che non è possibile in pochi anni superare un debito accumulato in tanti anni. Questi tre livelli istituzionali hanno messo in campo un procedimento, con l'unico obiettivo di salvaguardare la tutela dei diritti fondamentali, per esempio quello dei trasporti attraverso l'acquisto degli autobus, delle borse di studio, o coperture importanti riguardanti la sanità. A questo punto che si fa? Si ritorna alla copertura del debito ereditato dal passato e farlo in pochi anni, cancellando i diritti fondamentali? O si riapre un ragionamento, tiro la fune, indiritto col governo, per dare luogo ad una nuova legge dello Stato, come abbiamo fatto noi, con la legge 205 del 2017, che ha permesso la ventennalizzazione del debito. Un debito di 700 milioni di Euro ereditato, non è possibile ristorarlo con tre o quattro anni. C'è bisogno di un numero di anni congruo che lasci agibilità finanziaria per coprire la garanzia dei diritti fondamentali. Questo problema che per adesso è della Regione Abruzzo, ma a breve sarà dei grandi comuni italiani e di altre regioni italiane che hanno usato la stessa legge caducata dalla Corte Costituzionale per ripianare i debiti del loro passato. Nel nostro caso ancora più veritiera, perché noi ci siamo trovati a fare i conti nei documenti contabili con debiti nati dieci anni prima. Nell'arco di 60 mesi abbiamo restituito dei 700 milioni, 300 milioni di debiti attraverso sacrifici e politiche di razionalizzazione. Per il debito restante ci vorrà una nuova legge dello Stato, una nuova procedura che però non accetti di comprimere a pochi anni il pagamento di 400 milioni. È possibile fare questo? Assolutamente sì. E ora la cronaca palpeggia in strada una donna che sta scendendo dall'automobile. Lei si dà la fuga e si rifugia in un bar da dove viene lanciato l'allarme al 113. Alla fine il responsabile viene arrestato in flagranza dalla polizia per il reato di violenza sessuale. In manette ieri pomeriggio a Pescara è finito un cittadino di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto in una piazza nei prezzi della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova. La donna ha cercato di vincolarsi, ha urlato per attirare l'attenzione dei passanti e si è rifugiata nel bar. L'aggressore l'ha seguita anche nei pressi dell'attività commerciale e proprio lì gli agenti della squadra volante lo hanno rintracciato e bloccato. Anche i presenti, ascoltati dalla polizia, hanno confermato l'aggressione. Il cittadino di origini nigeriane si trova nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere condotto in carcere, così come è disposto dal PM di turno in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP. E' ancora cronaca nel 2019, insieme ad altre due persone si rese responsabili dell'aggressione ai danni dell'inviato RAI Daniele Pervincenzi, del filmmaker Sirio Timosi e del redattore David Chierincini, impegnati in un servizio per il programma RAI nel quartiere Rancitelli di Pescara. Ora finisce in carcere per una sentenza definitiva per alcune rapine emessa la sentenza dalla procura generale della Corte d'Appello di Perugia. Si tratta di un 25enne di Pescara, residente proprio nel popoloso quartiere del capoluogo adriatico. Il giovane, già sospettato di un assalto ad una gioielleria nel centro di Pescara, dovrà scontare tre anni e quattro mesi di reclusione per una sentenza emessa, come dicevamo, dalla Corte d'Appello di Perugia. Che riguarda anche una rapina commessa nella primavera del 2015 ai danni di un commerciante del mercato ortofrutticolo di Villanova di Cepagatti, a cui aveva sottratto la somma di 39 mila euro. Gli investigatori della squadra mobile in mattinata hanno eseguito l'arresto del giovane che sarà condotto in carcere per scontare la pena. Voltiamo pagina. Lorenzo Dattoli, 48 anni, laureato in ingegneria meccatronica e il nuovo presidente di Confindustria Teramo, è stato votato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci e sarà affiancato da tre vicepresidenti, Massimiliano Bolognesi, Gianni Der Lolletta e Erika Rastelli, il servizio di Tania Bonici Castelli. Un vento nuovo soffia Confindustria Teramo, rinnovati il consiglio direttivo, le cariche statutarie e lo statuto e c'è un nuovo presidente, Lorenzo Dattoli, 48 anni, laureato in ingegneria meccatronica, votato ed eletto all'unanimità. L'obiettivo principale della squadra di oggi al vertice dell'Unione degli Industriali Teramani è quello di rafforzare il tessuto imprenditoriale di Teramo con azioni per lo sviluppo di impresa e nuovi servizi. Come scritto nel programma, il primo obiettivo è quello di cercare di rafforzare l'Associazione Teramana, di renderla più presente e più vicina a tutti gli industriali teramani, il che porterebbe anche ad un rafforzamento di tutto il tessuto sociale di Teramo. Com'è la situazione dell'imprenditoria teramana in questo momento? Fortunatamente posso ammettere che tutti gli imprenditori teramani sono molto avvezzi, hanno le spalle molto larghe, quindi riescono ad affrontare questa situazione un po' più difficile che si è verificata negli ultimi anni, ma che comunque avrebbero bisogno anche di essere affiancati da noi come associazione e cercheremo di portare per loro molti più servizi ed una presenza più massiva. Ecco, cosa può fare Confindustria per loro, esattamente? Confindustria può fare tanto, bisogna costruire e bisogna cercare di portare al loro servizio tutti quegli strumenti che potrebbero semplificarne o quantomeno dare possibilità di accesso a possibilità maggiori rispetto a quelle che uno da solo potrebbe incontrare. Il neopresidente Dattoli sarà affiancato da tre vicepresidenti, Massimiliano Bolognesi, Gianni dell'Orletta e la giovane Erika Rastelli della Aran Cucine. Come si è così giovani e così importanti già? Con l'impegno, con la dedizione nel vorre portare etica nel nostro mondo dell'economia, con l'impegno quotidiano e con tanta voglia di fare. Stiamo trattando temi fondamentali come il PNRR, i cambiamenti climatici, siamo tutti impegnati per l'agenda ONU del 2030, quindi ritengo che sia un momento fondamentale per la nostra terra, per le nostre industrie e per stare al passo con i tempi. Nell'illustrare le linee programmatiche del suo mandato da presidente di Confindustria Teramo, Lorenzo Dattoli ha escluso categoricamente ogni tipo di fusione con Pescara, almeno per il momento. Per la gioia dei più piccoli a Pescara, da oggi in Piazza della Rinascita, c'è anche il villaggio di Babbo Natale. Viene inaugurato questa mattina in Piazza della Rinascita il villaggio di Babbo Natale, assessore è un'altra attrazione per questo Natale e soprattutto per i più piccoli. Oggi c'è il villaggio di Babbo Natale che sarà presente qui in Piazza Salotto per tre giorni, invitiamo tutti i bambini a venire qui perché ci saranno tantissime attrazioni. C'è anche questa sinergia con le associazioni, con la Croce Rossa italiana, tante iniziative anche benefiche? Assolutamente sì perché lo voglio ricordare, noi già dal 2019 quando avevamo fatto la città dei bambini siamo riusciti a raccogliere circa 5.000 euro che sono stati donati al reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Quindi ogni evento che il comune fa è vero che pensa al benessere di tutti i bambini e comunque quello dei cittadini, ma guardiamo sempre a chi in questo periodo ha problemi e purtroppo si trova in uno stato di sofferenza, gli siamo vicini e per questo abbiamo coinvolto le associazioni proprio per dare un messaggio, un segnale importante a queste persone. Voglio ricordarlo con orgoglio, abbiamo illuminato quasi un terzo della città di Pescara con le luminari che già erano installate dalla fine novembre, credo che soltanto dal 2019 si è raggiunti un tale risultato. Abbiamo organizzato degli eventi che saranno qui a Piazza Salotto, ma avremo eventi anche a Pescara Vecchio, San Silvestro nei quartieri di Pescara e concluderemo il 31, l'1 e il 5 con tre grandissimi concerti, due che si terranno nell'area di risulta e uno che si terrà al teatro Circus e anche lì sarà un'occasione per fare beneficenza. Tre giorni di Natale speciale, tre giorni veramente fantastici con questi ragazzi diversamente abili, ragazzi speciali che dimostreranno a tutti i loro lavoretti che fanno anche durante l'arco dell'anno. e poi ci sarà una giornata dove loro si accingeranno a fare dei lavori insieme a Babbo Natale che verrà qui apposta per loro. Quindi un Natale speciale per tutti i bambini. E ora lo sport con il calcio di Serie C, che apriamo questa pagina con una notizia ancora una volta che trascende il calcio giocato per quanto riguarda il Delfino. Mentre i tifosi contestano il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, anche con le vele che da giorni girano in città con cartelli contro la proprietà della squadra, sono stati accolti anche gli altri ricorsi presentati dalla CIMAV dell'ex amministratore delegato del Pescara Danilo Iannascoli. Ad oggi ancora socio di minoranza della società abruzzese, il Tribunale dell'Aquila, sezione specializzata in materia di impresa con due sentenze diverse, ha dichiarato infatti nulli il bilancio dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2017, annullando quindi le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci nella parte relativa all'approvazione dei bilanci. Il bilancio al 30 giugno 2016 era già stato dichiarato nullo dal Tribunale dell'Aquila ed è stato proposto appello da parte del Delfino Pescara 1936, che andrà a decisione definitiva nel mese del prossimo marzo. Quindi il Tribunale, con tre sentenze diverse, ha dato ragione all'ex amministratore delegato Iannascoli ed ha dichiarato nulli i bilanci 2015, 2016 e 2017, mentre ora passando al calcio giocato la squadra si avvicina a grandi passi alla sfida di domenica con la Pistoiese. Al centrocampo ballottaggio Diambò Memushai in difesa. Tornerà dopo la squalifica Drudi. E ora andiamo avanti con lo sport. Inizia a svuotarsi l'infermeria del Teramo. Sono infatti tornati ad allenarsi con il gruppo Viero, Chermateng e Birligea, mentre Boa è ancora in dubbio per sostituire lo squalificato. Adiosmanovic-Cuccurullo prosegue il lavoro differenziato. Andiamo allora ad ascoltare il giovane difensore Ndrechka, che spera di essere confermato titolare nella gara di domenica. Sicuramente sono molto contento perché all'inizio ho faticato un po' col minutaggio, però col passare del tempo ho capito cosa mi chiedeva il mister, cosa soprattutto chiedeva il mister e sono riuscito a calarmi nel ruolo. Adesso sto trovando il campo con più continuità e sono molto contento. Sono molto contento anche della prova di domenica, non solo mia ma da parte di tutta la squadra perché è arrivata una bella risposta che ci aspettavamo. Sì esatto, poi quello è uno schema sul calcio piazzato che noi proviamo sempre, ogni rifinitura che facciamo. Prima era uno schema 3 ed è venuto benissimo e Marco è andato in gol. Sono felice, sì, quelle sono le mie caratteristiche, mettere i cross, rifornimenti per i compagni e cercare di far segnare i compagni. Sto campionato e sto girone non ci dà un attimo di sosta perché già domenica c'è una partita importantissima, perché la classifica è cortissima, se vinciamo possiamo andare ai play-off, se perdiamo è play-out, è sempre quello il discorso. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo la mentalità, la nostra mentalità che ci contraddistingue, che ci deve contraddistinguere da tutti, quello che ci chiede il mister e il risultato sarà solo una conseguenza della nostra prestazione. Io sono contento del percorso che sto facendo, io rimango a disposizione, il mio compito è quello di dare ogni allenamento il 110% e poi chiaramente le scelte del mister sono quelle, non si discutono. Ogni volta che mi chiederà di scendere in campo, io darò sempre il massimo, come ho fatto domenica e come ho fatto sempre. Ma non lo so, in casa siamo stati anche sfortunati, perché ci sono state partite che meritavamo di vincere, come contro per esempio la Vispesaro, nel primo tempo è stato a senso unico ed eravamo in vantaggio di solo un gol. Oppure anche contro il Siena, che abbiamo pareggiato, ma se si andava a vedere le occasioni meritavamo qualcosina in più noi. Secondo me è solo un caso e alla lunga verremo fuori anche in casa davanti ai nostri tifosi. Andiamo ora in Serie D, dove il Chieti dopo il pareggio contro il Tolentino adesso con l'Aurora Alto Casertano dovrà assolutamente vincere. La società ha confermato che Lucarelli rimarrà al suo posto. Vediamo. Per il Chieti quella di domenica sarà una tappa fondamentale per dare una sterzata al campionato. La formazione di Lucarelli dopo il pareggio casalingo contro il Tolentino sarà di scena a Pietramelara contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. La vittoria è alla portata della formazione Nero Verde che in trasferta finora ha un rendimento da squadra di vertice. Diverso invece è quello dell'Angelini, dove la squadra non ha mai vinto e questo preoccupa il patron Trevisan. È chiaro che non concretizziamo le occasioni e c'è qualcosa da rivedere anche secondo me a livello di gioco perché lasciamo troppo il controllo e la palla agli avversari ma penso che il mister questa settimana lavorerà per migliorare e anche l'assetto complesso della squadra. Devo dire comunque una buona partita, non mi posso lamentare. Nei giorni scorsi è arrivato a rinforzare la squadra l'attaccante classe 1990 Luca Orlando proveniente dall'FC Messina con la società che sempre per il reparto avanzato sta provando a portare in Nero Verde l'attaccante ex notaresco Ezequiel Banegas. I maggiori problemi Lucarelli, che gode della fiducia della società, li ha però in difesa dove nelle ultime ore è sfumato l'arrivo di Emanuele Allecca dalla Cinzia al Balonga. Sia il mister che il direttore sportivo in questo momento devono essere lasciati sereni di lavorare, a lavorare e quindi comunque la voce della società sarà la mia fino ad oggi o quella del presidente Mergiotti perché parleremo noi quei giorni. Lucarelli deve solo lavorare, deve essere sereno, deve andare avanti per il lavoro che sta facendo e assolutamente andiamo avanti così anche perché comunque le ultime due partite, una vittoria fuori casa è un pareggio oggi a Chieti, comunque sono risultati che meritano considerazione e rispetto ai confronti del mister. Proseguiamo con la pallavolo in A2 la Siecortona che nelle ultime ore si è rinforzata con l'arrivo del palleggiatore Mattia Ferrato classe 2001 proveniente dal Motta di Livenza sarà impegnata a Santa Croce sull'Arno domenica alle 18. in contemporanea in A3 la Bapineto riceverà il Bologna pausa in A2 femminile, in B maschile domani alle 19 il Paglietta sarà di scena ad Anguillara domenica l'Alba Adriatica andrà a Loreto in B1 femminile la Tiatina ospiterà domani alle 17 a Nocciano il Casal De Pazzi in B2 infine le nostre quattro abruzzesi giocheranno tutte in trasferta domani alle 18.30 la Donunziana Potenza Picena alle 19 il Ceteas Montesilvano a Bisceglie alle 21 la Donunziana a Corridonia domenica alle 17.30 il Teramo sarà a Trani e questa era la nostra ultima notizia i servizi che avete visto sono disponibili sul canale YouTube della nostra emittente così come sul sito tv6.it l'informazione tornerà questa sera alle ore 19 grazie e buon pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.